Secondo appuntamento di Moviagì, il progetto del gruppo Agrigento 2030 con il secondo itinerario che ha raccolto quelle che sono le testimonianze all'interno del centro storico di Agrigento dei succhi del Serpotta e del Barocco. Grazie alla nostra guida Marco Falzone, il serpentone di cittadini si è diretto in quelli che sono tutti i vicoli del centro storico proprio inseguendo a partire dal monastero di Santo Spirito fino ad arrivare alla chiesa della Dolorata e poi su in cattedrale a vedere tutte quelle che sono le testimonianze barocche del Serpotta appunto del centro storico di Agrigento. Un progetto che vuole assolutamente rendere consapevoli cittadini delle bellezze storiche e monumentali che ha la nostra città e quindi la necessità che questi possano essere messi in rete e soprattutto avere la giusta manutenzione e renderli fruibili anche per le visite dei nostri turisti. Prossimamente un altro itinerario che sarà quello della seconda guerra mondiale. Invitiamo pertanto tutti a seguirci sulla nostra pagina Facebook Agrigento 2030 per conoscere tutti i dettagli delle prossime linee metropolitane. Grazie a tutti.